Il pianeta Druidia La nave spaziale della principessa Vespa è a tiro, signore Bene Che succede? Questo non è piede grotta, ci vogliono bozzare Adesso le faremo vedere chi è che comanda in questa galassia Se non mi dà la combinazione dello scudo d'aria Il dottor Flotkin restituirà a sua chiglia il suo vecchio naso No! Solo un uomo con il suo fido compagno può salvare il pianeta Druidia dal disastro Ok, Eagle 5, atterraggio d'emergenza Stella solitaria Prima devono imparare i segreti di Yogurt Yogurt? Io sono il detentore della grande magia La forza! No, lo sfondo! Spuggire alla cattura sul lontano pianeta Fatemi rastrellare tutto il deserto Devono passarlo al peccine Trovato niente? Non abbiamo trovato! Combattere l'intera armata di Spaceball Mi ha sparato tra i capelli E sottrarsi alle grinfie di Casconi Vedo che il tuo sforzo è grosso come il mio Abbandonate la nave! Tutto il personale si immetta nelle capsule di calvotaggio Ecco, diavolo a questa cintura di sicurezza Quando è che questo accade nel film? Quale zappa! Palle spaziali Il film Come faccio a sapere se mi fa le boccacce sotto a qualcosa? E che lo sforzo sia con... No! E che lo sforzo sia con...